Nelle prime settimane di vita, i Gattini imparano molto da la loro madre e anche dai loro fratelli. Nonostante cio, l'educazione dei Giovanni Gatti da parte della persona che se ne prenderà cura e con acento grave assolutamente indispensabile, dopo tutto. La mamma non halleva i suoi Gattini secondo gli standard umani, in effetti spetta a te, come suo convivente umano, far capire al Gattino appena nato ce l'oscopo delle tende, della carta da parati e del divano non è con acento grave quello di mantenere a filati i suoi artigli. In generale, può aiutarci comprendere le ragioni a la base del comportamento del Gatto, sulla carta da parati, le tende esimili i Gattini a filano il loro artigli e hallo esteso tempo marcano il territorio grazie alle gandoli o d'orifere, le quali sono poste sui. Cuscinetti delle loro zampe, l'odore dei loro feromoni non è con acento grave percepibile dalle persone, malo è con acento grave d'agli altri gatti e d'agli animali in generale. In questo modo il Gatto a fila anche i suoi artigli, li pulisce esternamente e aggiunga il suo corpo in una sorta di stretching, quello di a filare gli artigli e con acento grave un comportamento del tutto naturale. Obviamente il tuo amato Gatto può continuare a perseguire il suo obiettivo non utilizzando i mobili di casa ma servendosi di un tiragrafi. Concepito a te il scopo, o di un grafiatoio, di solito puoi farlo capire al tuo Giovanni amico di zampa metendo in gioco la tua empatia, restando calmo e avendo un po' di pacienza. Come educare un Gattino? E con acento grave importante tenere presente anche il fatto che i Gatti sono individui independenti, non sono animali da branco. Per questo motivo non considerano il loro coinquilino humano come il loro capobranco. Da ciò deriva il fatto che non se vuono necessariamente ciò che le sede umano al loro fianco fa con l'intento di educarli. Inoltre, i Gatti sono semplicemente obbedienti in un modo diverso. Fundamentalmente, educare i Gatti ne da risultatisi si se vuono alcuni semplici suggerimenti, un aspecto importante e con acento grave la tempestività. Con cui si reagiste al comportamento del Gattino? Se lo trovi sul tavolo della cucina, ad esempio, o se spunta da sotto il tavolo poggiandovi sopra il muso, se grafia con il suo artigli. Il divano, la carta da parati o la tenda, basta direno. Con fermezza ma anche con calma, prendendo con se il micio per aiontanarlo dal tavolo o portalo sul suo tiragrafi. Sistema il tiragrafi, medio ancora diversi tiragrafi, in uno o pi punti della casa facilmente accesibili dal gatto. Il consiglio e con acento grave anche quello di posicionare il tiragrafi vicino a quel mobile da filto nuovo amico adora a filare i suoi artigli, a modi alternativa. Puoi rendere il tutto ancora vi invitanti spruzzando sul tiragrafi un po' di essenza di erba gatta. Per educare i baby gattini bisogna reagire con prontezza. Oggi volta, per reagire efficacemente ad un comportamento esbagliato da parte del tuo Gattino, hai uno spazio di tempo molto limitato, di uno o due secondi. E con acento grave importante tenerlo presente, se vuoi che il tuo piccolo amico asoci la tua reazione di rinforzo positivo o negativo all'azione che ha appena con meso. Oggi tua iniciativa conseguente e inmediata con funzione di rinforzo positivo per tutto ciò che il tuo Gattino fa bene, di solito. Fasche il Gattino rispeti rapidamente e in maniera duratura le regole che tu hai impostato. L'importanza di lasciare a lungo e piccoli con la loro mamma è con acento grave fondamentale lasciare e cuccioli con la loro madre e il pi a lungo possibile. Questa vicinanza è con acento grave importante per la salute fisica e mentale di Giovanni Batti. Al contrario, se i Gattini vengono separati da la madre quando è con acento grave ancora troppo presto, si corre il rischio di incrementare, trale, altre cose, il loro livello di ansia. Questo stato di cose riduce a sua volta la qualità di vita del Gattino, così come la sua posibilità di venire educato con succeso. I Gattini molto Giovanni sono semplicemente pi capaci di inserirsi quando si sentono al sicuro e sono emotivamente equilibrati. Il rinforzo positivo come strumento per educare il Gattino. Existe una vasta scelta di ausilice posono aiutarti nei educare il tuo Gattino. Alcuni esperti di Gatti garantiscono l'efficacia del Gattino, ad esempio. A traverso l'uso dei cosiddetti marker, che rafforzano positivamente il buon comportamento del tuo Gatto, l'addestramento con Gattino può dare risultati significativi. Fondamentalmente, qualsiasi Gatto può seguire un addestramento con il clicker, ma anche in questo caso possono essere bidiferenze individuali significativi in quanto si ascolta un Gatto responde a questo metodo di addestramento. Il clicker funziona tramite un suono distintivo che produce e che non appartiene al normale ambiente del Gatto. Fungendo da amplificatore positivo, il clicker segnala inmediatamente al Gatto che ha appena fatto qualcosa di giusto. Anche in questo caso, dopo aver fatto clic, halla disposizione un intervallo di tempo molto breve, da uno a due secondi, per premiare il Gattino con un croccantino, ad esempio. L'addestramento con il clicker viene utilizzato anche quando si vuole insegnare ai Gatti qual che tricco asvolgere una determinata accione. Ad esempio, lo si usa comunemente nei film nei quali sono presenti Gatti. Se hai utilizzato il clicker per insegnare al tuo omicio le basi di una convivenza armoniosa, probabilmente puoi usare questo tipo di condizionamento per introdurre con successo comandi pi complessi. Alcuni proprietari utilizzano questo strumento per insegnare ai loro Gatti semplicitric come sedersi, gratificare attraverso carezze e ricompense. Tutta via, non tutti gli esperti di Gatti apprezzano l'uso di questo strumento, il quale produce un suono in qualche modo simile a quello di una rana. Alcuni giudicano lo utilizzo del clicker un metodo educativo al quanto impersonale. Dopotutto, quando si educa un gatto, la cosa più importante è con acento grave riuscire a stabilire una connessione profonda e un rapporto di fiducia tra noi e il nostro gattino. Coloro che non sono d'accordo con la filosofia del clicker sono dell'opinione che, quando fanno qualcosa di buono, e cuccioli di vano. Receber snack, complimenti e tantco con le. In questo modo si condivide genuinamente con il proprio animal e la gioia scaturita dal suo comportamento positivo. Grazie al rinforzo positivo in pratica può ottenere dal tuo piccolo coinquilino a 4 zampe cambiamenti positivi, alivello di comportamento, in un modo rápido e duraturo nel tempo. Al contrario, utilizzare il rinforzo negativo, ad esempio attraverso l'uso di uno spruzzatore d'acqua, non è con acento grave assolutamente consigliabile. Perché si distrugerebbe in questo modo il rapporto di fiducia che si desiderava invece instaurare con il gatto. Stabilire una connessione fondata suya fiducia e con acento grave infatile senza estesa il obiettivo di un training di succeso rivolto ai gattini. Se il tuo gattino fa qualcosa che suscita il tuo disappunto, il modo migliore in cui può reagire con acento grave pronunciare subito uno fermo e tranquillo. Contemporaneamente dovresti prendere il tuo micio e portarlo via dal tavolo della cucina, dal piano di lavoro o bunque si trovi senza. Il tuo ascenso, per poi posarlo delicatamente a terra, o nella sua cesta, o sul tiragrafio in qualunque altro luogo in cui posaster. Di solito in questo modo il gattino capisce rapidamente. Il gattini si ad domesticano rapidamente. Di solito il gattini molto giovanni imparano rapidamente anche ad utilizzare la lettiera. Tutta via, è con acento grave importante tenere presente che può capitare che il micio in capi in un incidente, mentre si trova ancora nella fase di aprendimento. In questo caso, non reagire in fastidito, ma si delicato e paciente, limitandoti semplicemente a mettere il tuo gattino suya lettiera. Parlando gliemagari anche accarezzandolo suya testa. A questo punto sarebbe bene che tu ti ritirasi con discrezione in modo da lasare al tuo gattino la privacy di cui abisogno in quel frangente. Spesso accadece, se uno dei gattini sta usando la lettiera, questo eserciti una specie di istantanea attraccione sugli altri fratelli. Non appena un gattino vede uno dei suoi fratelli usare la lettiera, vi salta dentro a sua volta, e non è con acento grave raro vedere due gli ovanni mici. Usare la lettiera contemporaneamente. Vi tardi, però, sarebbe opportuno procurare a ciascun gatto la propria toilette personale. Non accarezzare il gattino troppo a lungo nello stesso punto. Se bene effettivamente gattini e gatti adorino le coccole, accarezzarli troppo a lungo in un solo punto rischia di sobra excitare. Il loro recettori tatili procurando fastidio. Ecco per che, in determinate circostanze, capita che il gattino dopo un po mostri apertamente al suo proprietario che le carezze sono diventate in qualche modo excesive. Dobresti prestare attenzione a questo aspetto e non accarezzare il gatto per troppo tempo nello stesso punto del corpo. Ti auguriamo tanta felicità e una convivenza felice insieme al tuo gattino e, pi tardi, insieme al tuo gatto. Scopri tutti i prodotti del nostro suo gattini e le chianche i sugerimenti che trovi nel nostro articolo adotare un gattino, cosa ti serve e cosa devi sapere. Grazie.